andiamo adesso a commentare il trionfo della divina provvidenza con un affresco situato a palazzo barberini dipinto da pietro da cortona il trionfo della divina provvidenza viene fatto da pietro da cortona per papa urbano ottavo papa urbano ottavo fu un membro molto importante della famiglia barberini nonché uno dei papa più importanti in assoluto nella storia più importanti e soprattutto con più potere questo affresco ha un significato ben specifico oltre ad essere una delle opere più importanti in assoluto a palazzo barberini il papa voleva far capire che il suo potere non era dovuto a un'elezione a livello terreno ossia non era stato eletto da qualcuno papa sulla terra bensì il suo potere era dovuto a un volere divino e quindi il trionfo della divina provvidenza al centro della fresco noi troviamo delle figure divine poste proprio all'interno di una cornice il quale viene rappresentata la divina provvidenza che ordina l'incoronazione di papa urbano ottavo e la vediamo che è la figura con il vestito giallo sopra quasi all'estremità della cornice notiamo la corona con il quale papa urbano ottavo fu incoronato e sotto all'interno della loro notiamo le tre api simbolo della famiglia barberini inizialmente il simbolo della famiglia barberini erano i tafani questi animali però erano ritenuti rossi perché erano gli animali dei cavalli quindi non erano animali nobili tra virgolette nel corso degli anni appunto fu ridisegnata questa concezione e il simbolo della della famiglia barberini diventano le api alla all'estremità della cornice noi notiamo notiamo quattro medaglioni che tutte e quattro stanno a rappresentare una storia ben specifica come per prenderne una ad esempio possiamo notare il medaglione contenente fabbio massimo il temporeggiatore questa medaglione questo raffigura una scena molto importante avvenuta nella storia nel periodo romano parliamo di fabbio massimo il temporeggiatore consul romano che sta giustiziando suo figlio fabbio massimo era solito prendere tempo durante le battaglie quindi pensare sulla mossa da fare durante il combattimento sulla mostra successiva il figlio non rispetta gli ordini del padre di aspettare e attacca il popolo nemico in fretta e furia il padre quindi decide di giustiziarlo nonostante fosse il figlio stesso noi vediamo all'interno di questa cornice un concentrato tra virgolette di figure divine mentre all'esterno vediamo delle figure anche pagane vediamo anche vedremo anche qualche figura divina quale ad esempio il diobacco quale venere ma per lo più sono presenti figure pagane allora una cosa sottointesa una cosa che non si spiega solitamente di questo fresco è che sotto la cornice sono riportate anche delle scene di sofferenza come magari queste giganti che sono in evidente stato di sofferenza e poi vediamo la divinità di atene con uno scudo e una fresca posti all'angolo di dell'affresco di pedra da cortona noi notiamo quattro animali questi animali sono rispettivamente il leone l'unicorno l'ippogrifo e l'orso tutti e quattro gli animali rappresentano un significato diverso il leone rappresenta la forza l'unicorno rappresenta la purezza in quanto bianco si dice che l'unicorno rappresentando la purezza può essere avvicinato solamente da una vergine l'ippogrifo rappresenta l'esercizio della forza applicata alla giustizia esse è tenuto al guinzaglio da un angelo che in mano a un ramoscello d'ulivo la clemenza è una spada alla forza l'orso rappresenta la prudenza si pensava errando che gli orsi parte ripartorissero degli esseri senza una forma degli esseri amorfi e che gli orsi nel tempo leccando questi gli esseri amorfi dessero una forma specifica al cucciolo che poi crescendo sarebbe appunto diventato un orso un'altra cosa molto importante di questa figura è la differenza che pedro da cortona tiene a specificare fra il potere temporale e fa il potere spirituale era una differenza molto importante soprattutto durante il medioevo ad esempio diversi scontri fra persone fra partiti che sostenevano il potere spirituale e i partiti che sostenevano il potere temporale quindi ovviamente la fresco rappresenta anche una sostanziale differenza fra potere spirituale in quanto noi vediamo delle figure divine il quale rappresentano un potere spirituale ma vediamo anche posta sempre sotto la cornice degli esseri degli individui che stanno forgiando delle armi il quale ha un significato ben specifico ossia armi combattimento guerra e quindi potere temporale controllo sul territorio notiamo altre due figure divine però poste non all'interno della cornice due figure di vine pagane poste all'esterno della cornice il dio bacco e venere il dio bacco in questo caso è rap era il dio del vino rappresentato bambino e posto accanto a una persona con molta massa grassa questa è un po come tramortito dall'alcol viene rappresentato tramoltito dal vino si si dice che questa persona appunto si è ubriagata e quindi si trova in questo stato di incoscienza e appunto il dio bacco viene rappresentato da bambino notiamo inoltre la divinità di venera divinità di venere posta accanto a un tello rosso il quale questo tello rosso è sostenuto da cupido che sta spiando cosa sta facendo venere venere non è in serenità è rappresentata come se si stesse vergognando di qualcosa notiamo all'interno della cornice il dio crono rappresentato con un'ascia mentre si sta mangiando un bambino è un significato veramente molto importante il quale il dio crono è il dio del tempo e rappresenta è rappresentato appunto mentre si mangia un bambino e sta a significare appunto che il tempo non ha mai fine quindi la ciclicità del tempo stesso accanto accanto a crono sono poste le tre parche le tre parche mentre tessono un filo mentre tessono i fili e rappresentano il destino dell'umanità e quindi la ciclicità del tempo non ha mai finito e quindi la ciclicità del tempo non ha mai finito grazie a tutti